buon pomeriggio a tutti oggi parliamo di un sacco di cose è ufficiale 13esima dicembre 2023 sulle pensioni che sarà pesante maggiorata maxi per tre motivi ma attenzione perché assisteremo anche ad una riduzione cancellazione di fatto e adesso vi spiego perché poi arriva anche il bonus da 155 euro sulla tredicesima gli arretrati di rivalutazione con guagli fiscali più gentili ed è appena anche ufficializzato un nuovo colpo alla alle categorie più fragili mi raccomando seguite fino alla fine il video seguite il canale un bel like e partiamo subito dicembre tredicesima maxi nel 2023 sappiamo tutti quanti che imps erogherà la tredicesima per la quasi totalità dei trattamenti pensionistici sia previdenziali che assistenziali quindi si tredicesima sulle pensioni di vecchiaia sulle pensioni di invalidità anche sulle pensioni di invalidità civile sulle pensioni sociali sulle pensioni di reversibilità eccetera eccetera ma attenzione prima novità niente tredicesima sull'ape sociale niente tredicesima sull'accompagno niente tredicesima sull'indennità di frequenza avete capito bene niente tredicesima alle pensioni di accompagno niente tredicesima alle pensioni di indennità di frequenza niente tredicesima sull'ape sociale quest'anno si sta insistentemente parlando di tredicesima pesante fondamentalmente per tre motivi il primo è la rivalutazione anticipata del conguaglio istat dello 0,8 per cento relativo al 2022 questa percentuale andrà ad aumentare non solo l'importo lordo della pensione di dicembre ma anche la tredicesima e già si può verificare sul modello zero bis questa è la prima novità vi ricordo che lo 0,8 per cento che il governo si sta bantando tantissimo di averla anticipata è quello che proviene dal 2022 perché l'aumento istat era pari all'8,1 per cento ma il governo ha dato solo il 7,3 quindi manca ancora lo 0,8 per cento quello che renderà tutti i pensionati più ricchi grazie governo sempre grazie secondo motivo per la quale la tredicesima dovrebbe essere così maxi torniamo in tema di rivalutazione dello 0,8 per cento che dovranno arrivare gli arretrati da gennaio fino a novembre come abbiamo detto in diversi video che già vi ho postato come già detto precedentemente poi ci sarà il famoso bonus tredicesima importo aggiuntivo sulla tredicesima da 155 euro che spetta però soltanto ai pensionati previdenziali al minimo che rispettino tra l'altro stringenti limiti reddituali questo bonus quindi non spetta titolari di trattamenti assistenziali no 155 euro sull'assegno sociale e no purtroppo 155 euro nemmeno per gli invalidi civili attenzione dicevamo inizio video cancellazione di fatto della tredicesima maxi pesante questa è la denuncia che anche quest'anno la cgl cioè quella di una tredicesima di fatto castrata ridotta dall'inflazione reale visto che l'incremento dei prezzi di quello vero soprattutto in ambito alimentare si attesta ad un livello molto molto più alto di quanto rilevato dall'istat è appena arrivato poi un nuovo colpo ai più fragili arriva dalla manovra sia con la stretta sulle uscite anticipate per il 2024 quota 103 che torna ma è quasi 104 opzione donna ma c'è anche un nuovo scippo di 50 ulteriori milioni dal fondo per l'invalidità in totale quindi siamo arrivati a 400 milioni sottratti al fondo per i più fragili cara locatelli se ci può dire qualcosa in merito e ma soprattutto qualcosa di sensato a dicembre noi ringraziamo poi ci sarà anche una tassazione un po più gentile anche quest'anno proprio sulla tredicesima perché è in corso d'anno l'istituto imps ha già tassato diciamo in anticipo a titolo di acconto proprio i rate immaturati di tredicesima così da rendere il conguaglio finale un pochettino più leggero vi ringrazio per avermi ascoltato vi ringrazio per la fiducia auguro a tutti quanti voi una felice giornata